Salve a tutti, bentornati al Dingo Show. Ero curioso di vedere quella Lanford che copiava la copertina del primo numero, perché ci si chiedeva se fosse una riedizione del primo numero, se fosse un tornare al passato, come dice il titolo, con escamotage narrativo alle origini al gruppo TNT. E invece no. Secondo me è una scorrettezza, una furbata editoriale ennesima, perché non è la prima volta che incorrono alla casa editrice in queste ristampe. Il numero 661, detto original, comprende due episodi già letti e riletti. Perché guardavo su alcuni siti del gruppo TNT, dell'Alanford, amatoriali, siti di lettori, di collezionisti della testata, si diceva che il 98, cioè una ragazza chiamata Brenda, che la ritroviamo lì nel ristampata nel 661, è stata appunto ristampata ben, guardiamo un pochino, ritrovo il sito, era già stata pubblicata per sei volte. Quindi sei ristampe di quell'episodio. E il secondo episodio, perché quel numero comprende due episodi, il 661 original, comprende due episodi, c'è mistero alla fattoria, cioè il 112, sarebbe stato il numero 112 della serie regolare. E si dice che era già stato pubblicato otto volte, quindi ne hanno usufruito di queste due storie un bel po' di volte. Ecco, lo trovo una mancanza di rispetto per i collezionisti, perché se sei dietro alla nuova pubblicazione Petra, se i tuoi disegnatori principali stanno lavorando in questa nuova testata, sempre della mille volte meglio, a quanto ho capito, salta un mese. Fai come altre testate bimestrali, esci però con un inedito, visto che la pubblicità del numero 662 dalla copertina sembrerebbe una storia inedita. Quindi bastava saltare un mese e il collezionista che ha tutta la serie completa, non era costretto a doversi comprare queste due ristampe in un unico volume, che non c'entrano niente con la serie principale, perché chi ha tutti gli originali ha già letto, ha già letto quelle storie. Quindi, casomai, se volevi uscire mensile, me lo mettevi come speciale. Facevi quel numero con quella copertina che scimmiotta il primo numero come speciale estivo, quindi non ero costretto, se non volevo avere un vuoto nella collezione, a acquistare quel numero 661, che non c'entra niente con la serie regolare. Come non c'entra niente la copertina, perché copia pari pari il primo numero, e anzi, mi sembra, dice un tuffo al passato, quindi anche molto ingannevole, sembra un ritorno al passato, ma non è altro che una ristampa, quindi di storie passate, quindi scorrettezze furbate editoriali. Secondo me non porta niente di positivo anche a livello editoriale, perché crei sempre uno scontento, perché il collezionista, come dicevo, è costretto per non avere un buco nella collezione, ad acquistare delle ristante. È un mio parere, quindi l'editore è liberissimo di fare quello che vuole, però non porta niente di queste trovate, non portano niente, secondo me, di costruttivo. Comunque aspetto l'inedito, il prossimo numero, il 662, sono curioso di vedere se si continua sulla linea nonsense, cioè storie che non hanno né capo ne coda, spero in una trama logica, in una storia alla Max Bunker, come faceva lui in passato, bellissime storie. Ho sempre elogiato il buon Max, perché mi sono piaciuti tanto i criminali, Satanic, Dennis Cobb, Jezebel, tutto quello che lui ha pubblicato, perché erano storie interessanti, con tematiche interessanti, e non come questi ultimi Alan Ford, che non hanno né capo né coda. Quindi la faccio breve come mio consueto, video brevi ma ben chiari. E niente, vi aspetto in un altro video. Per quanto riguarda la musica, abbiamo dei problemi logistici sulla sala prove, quindi siamo un po' in stand by, però stiamo studiando il repertorio, quindi si lavora anche a casa, si va avanti comunque. Vi aggiornerò, per quanto riguarda il settore della musica, sulle varie evoluzioni, perché c'è anche un altro gruppo in cantiere, sul genere un rock un po' duro, un po' metal, un po'... ve ne parlerò allora in un altro video. Vi aspetto allora al canale, seguitemi, iscrivetevi e alla prossima al Dingo Show!